Musica Se non invertiamo la rotta con i dati a nostra disposizione nel 2100 avremo il clima caldo del Pliocene con gravi conseguenze all'analisi di Vincenzo Giovini, vicepresidente nazionale dei Geologi. La tragedia della marmolada ha aperto il dibattito sui mutamenti climatici e la sicurezza in montagna, dobbiamo adattarci al nuovo aspetto dei ghiacciai, spiega il noto alpinista Camillo Della Vedova. In arrivo risorse per i sentieri di montagna e per le vie ciclopedonali, quasi 2 milioni di euro messe a disposizione dalla regione per il territorio valtrinese, si investe sul turismo green. Buonasera, buonasera a tutti. Quella che stiamo vivendo è un'estate tra le più calde di sempre e gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. La tragedia della marmolada sta interrogando tutti. Ma cosa ci attende in futuro senza decisi cambi di rotta? L'abbiamo chiesto al vicepresidente nazionale dei Geologi in questi giorni in Valtellina. Abbiamo visto in questi giorni purtroppo quello che è accaduto sulla marmolada, dal punto di vista geologico come si può spiegare? Si può spiegare attribuendo sicuramente questi eventi ormai diventati purtroppo molto frequenti ma estremi diciamo così al cambiamento climatico, nel senso che da un certo punto di vista eventi di questo tipo non sono nella storia geologica eccezionale, sono sempre avvenuti. Quello che stiamo invece osservando è che questi eventi si sono completamente ridotti nell'arco di tempo. Se prima i cicli di periodi caldo, freddo, quindi glaciali e interglaciali erano di circa 40.000-100.000 anni, attualmente lo stiamo vedendo a livello di vite umane, cioè di decenni. E quindi evidentemente il clima si riverbera su quello che è la morfologia e l'aspetto geologico e purtroppo in alcuni ambiti che sono molto più ricettivi rispetto ad altre situazioni come i ghiacciai per esempio, questi fondono con tempi più brevi. Il clima è molto più caldo, lo zero termico per esempio si installa attualmente, per esempio era sui 4.000. Abbiamo visto anche del ghiaccio azzurro in superficie. Sì, infatti, quello che al di là dell'aspetto della nevicata, che è un evento che durante l'inverno si può manifestare, a volte più copioso, a volte meno copioso, il problema grosso è che se noi vediamo la sezione del ghiacciaio, della porzione che si è staccata, vedevamo proprio un orizzonte blu. E questo è ghiaccio che si è depositato in migliaia di anni. Avremo magari nevicate ancora intense, questo sì, non si può escludere, ma sicuramente la formazione ulteriore di ghiaccio di quella tipologia credo sia molto difficile da realizzarsi. Rischiamo anche in futuro un ritorno al passato? Sì, se noi per esempio vediamo la concentrazione di CO2, vediamo che c'è stato un... Nel passato soprattutto questo possiamo determinarlo a livello di glaciazioni, proprio studiando i ghiacciai presenti in Groenlandia piuttosto che... Nell'epoca della glaciazione erano circa 290 parti per milione, 190-290 parti per milione. A livello invece post-glaciale si è arrivati a circa 400 parti per milione per quanto riguarda la CO2. Attualmente siamo in quella condizione. Questo è determinato soprattutto da un discorso di riscaldamento e di modifica. Se noi proiettassimo con i dati che abbiamo attualmente in futuro, curiosamente è come se tornassimo a un periodo caldo che abbiamo vissuto circa 3,3 mila anni fa, cioè il pliocene medio, dove la condizione di clima era circa 3-4 gradi superiore con un innalzamento evidente dei mari di circa 20 metri medio. Non stiamo parlando di migliaia di anni, stiamo parlando del 2100. Restiamo in tema alla tragedia della marmolada, aperto il dibattito intorno ai mutamenti climatici ma anche sulla sicurezza in montagna. A riguardo interviene l'alpinista e presidente della Scuola Bombardieri di Alpinismo e Scialpinismo Camillo D'Avedova. Profondo conoscitore della montagna che frequenta da più di 40 anni da alpinista, il presidente della Scuola di Alpinismo della sezione valtelinese del CAI rileva come i cambiamenti ambientali impongano un approccio differente all'outdoor. Certamente il cambiamento è forte, rispetto a 40 anni fa io mi ricordo i ghiacciai qua, ma era una cosa, vai adesso non li riconosci più, perché effettivamente siamo noi che dobbiamo adattarci a questi cambiamenti, cercando proprio di limitare un po' il rischio, insomma perché il rischio andando in giro c'è sempre, non è che lo elimini, però va valutata per queste condizioni delle temperature, quelle cose lì, va valutata i percorsi ma anche le vie di roccia in quota si sgretano, ma è normale e noi dobbiamo cercare di limitare il rischio. Io però non è che puoi proibire di andare in giro, noi nella scuola facciamo apprendere agli allievi e così queste cose, la conoscenza di limitare il rischio il più possibile, ecco, e dopo il rischio c'è sempre, incidenti purtroppo capitano. Uno deve sapere le proprie possibilità, per dire io dico arrampicata, di andare in giro, in base a scegliere i percorsi, così in base a lui, poi deve valutare un po' di più rispetto a una volta i percorsi, però chiudere le montagne non esiste, perché io posso prendermi del rischio anche più elevato, però sono consapevole di prendere il rischio. Se uno non se la sente e vuole fare delle cose che secondo lui le sue possibilità non sono così, si affidano a guida o a quelli più esperti. Quello della sicurezza è un aspetto dibattuto in questi giorni successivi alla tragedia del ghiacciaio della Marmolada, che Della Vedova conosce e ha frequentato. Dei commenti ne hanno fatti tutti di più, però io dico che l'unico commento di avere rispetto per quelli che sono rimasti coinvolti in questo incidente, che era una cosa imprevedibile secondo me, perché con la sacca d'acqua che si è formata sotto, ha fatto un tappo, è venuto fuori tutto. Purtroppo è così. Quindi non si può parlare sicuramente di imprudenza di chi è rimasto vittima di quell'incidente? Assolutamente no. Anzi, potevano essere proprio tanti morti, perché lì è una via frequentatissima. La cronaca timida prensione questa mattina sulla strada che da Morbegno conduce ad Albaredo per San Marco. Un ciclista di 64 anni è rimasto coinvolto in una brutta caduta all'altezza di Campo Erbolo. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Il paziente è stato ricoverato in codice giallo l'ospedale Morelli di Sondalo. Domenica 10 luglio, domani, sciopero dei treni regionali. Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord, si legge nella nota diffusa dalla società, hanno deciso di confermare lo sciopero, nonostante le aperture manifestate dall'azienda durante i numerosi incontri avuti per evitare un'ennesima agitazione in una giornata festiva che, in base alla normativa in vigore, non prevede l'attuazione di servizi minimi di garanzia. Per tutta la giornata in Lombardia, i treni regionali, suburbani e collegamento con Malpensa potranno subire limitazioni e cancellazioni. Per ordinanza del prefetto di Novara, invece, saranno garantite 12 corse Trenord per l'Arona Airshow 2022. Risorse per i sentieri di montagna e per le vie ciclopedonali da parte della regione Lombardia. Quasi 2 milioni di euro saranno investiti a breve sul territorio valterinese. Vediamo come. Quasi 2 milioni di euro in arrivo in provincia di Sondrio sul bando regionale itinerari. Dei 10 milioni assegnati, più di 1.750.000 sono destinati a sostenere progetti e interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agrosilvopastorali e di percorsi ciclopedionali e ciclabili sul territorio valtellinese. Il bando di cui è stata approvata la graduatoria è iniziativa dell'assessorato a montagne e piccoli comuni. Regione Lombardia, afferma l'assessore Massimo Sertori, sostiene questi progetti con l'obiettivo di incrementare l'attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell'economia locale. Si tratta di risorse, aggiunge, utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano. La presentazione di 161 domande per un valore di circa 50 milioni di euro dimostra che abbiamo intercettato una reale esigenza dei territori, per cui lavoreremo per cercare di mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, ulteriori risorse per finanziare gli interventi ammessi ma non finanziati. Nel dettaglio i progetti finanziati in provincia sono 5, 623 mila euro al comune di Fusine per i lavori di riqualificazione del sentiero transorobico, che riguarda anche Cedrasco, Foppolo, Colorina e Forcola. A Faedo 445 mila euro per la realizzazione e riqualificazione del sentiero del pane e del vino tra Faedo e Piateda. La comunità montana di Sondrio riceverà 253 mila euro per il progetto itinerari d'alta quota tra laghi e passi alpini lungo il sentiero Italia e il comune di Torre Santa Maria ha ottenuto 280 mila euro per la realizzazione e riqualificazione del collegamento del sentiero Valtellina, la riserva piramidi di Postalesio-Arcoglio e il canale di Torre di Santa Maria-Retica-Malenca. Infine al comune di Gero alla Alta sono stati assegnati 412 mila euro per la manutenzione straordinaria dei sentieri escursionistici di completamento e collegamento alla rete mandamentale e interprovinciale. Cerimonia ricca di emozioni, quella in agenda stasera a Morbegno, in municipio, sotto i riflettori Davide Piganzoli, ciclista dall'Eurocometa, che al primo anno fra gli Under-23 è giunto terzo agli italiani e si è messo in evidenza al Giro d'Italia per l'appunto dedicato agli Under-23. È lui lo sportivo dell'anno 2021. Il premio Una vita per lo sport va invece a Orazio Rancati, icona del calcio balteinese che nella sua lunga carriera ha difeso anche i Corri dell'Inter. Partecipò alle Olimpiadi della Sessanta a Roma, indimenticabile la promozione in Serie D col Sondrio. Il vivaio è fondamentale per le squadre, è lì che si possono individuare i talenti e far aumentare anno dopo anno il loro potenziale per un possibile approdo in prima squadra. Questa è la linea scelta a Nuova Sondrio Calcio, come ha spiegato il responsabile del settore giovanile, Loris Barri. Far crescere i talenti del territorio e aumentare anno dopo anno la quota di giocatori valteinesi e valchiavennaschi presente in prima squadra. La Nuova Sondrio Calcio torna all'idea originaria, quella lanciata dal presidente Michele Rigamonti un anno fa, quando la società iniziò il suo nuovo cammino. La cantera biancazzurra sarà coordinata da Loris Barri, una bandiera della Sondrio Calcio, per 15 anni sul braccio la fascia di capitano. Se per le squadre allievi e giovanissimi si profilano alcuni allenamenti aperti a tutti, coloro che vorranno conoscerne allenatori e metodi di lavoro, sabato 16 luglio sarà il settore attività di base a presentare ufficialmente tutti gli staff. Loris Barri, 15 anni capitano della Sondrio Calcio, e ora una responsabilità quella di allevare i futuri talenti. Sì, è veramente una responsabilità, però un orgoglio grandissimo, perché effettivamente, come dicevo, è una cosa importante, perché tutto parte dai giovani. Vogliamo e ci crediamo a questo progetto Valtellina, vogliamo far crescere non solo a livello tecnico, ma anche a livello umano i nostri giovani, perché lo meritano e vedremo negli anni quello che noi potremo dare. Allenamenti con un orario che è stato studiato e pensato? Sì, sicuramente quest'anno ci stiamo migliorando sempre di più, dopo un primo anno che era un po' tutto un divenire, sicuramente abbiamo studiato gli allenamenti, abbiamo studiato anche un'alimentazione, c'è un'organizzazione veramente importante. Sono convinto che ogni mese che passerà miglioreremo sempre di più, lo vedremo da qui a pochi anni. Giocare in prima squadra è il sogno di tutti i giocatori del settore Giovani Le Biancazzurro e in più c'è la collaborazione con il Monza Calcio, ne ho promosso in Serie A. Alcuni giovani che hanno partecipato ai campi estivi a Sondrio sono già finiti nei tacquini degli osservatori. E parliamo ancora di giovani dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Dalla 10 al 24 luglio ritorna a Bormio l'iniziativa dei Lions Club Campo Giovani Valtellina, un programma di scambi internazionali e interculturali che vedrà ospiti la nostra provincia, ragazzi fra i 15 e i 22 anni provenienti da diversi paesi europei, con l'intento di creare e promuovere uno spirito di comprensione e apertura tra i popoli del mondo. Alla sua 27esima edizione il programma del Campo Valtellina è ormai consolidato, camminate, escursioni e visite delle incantevole cornice delle nostre montagne. Era l'ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito teleunica.com, la web tv, teleunica.tv, la nostra presenza sui principali social. Vi auguro una buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS